E' stata presentata dal sindaco di Fano, dall'assessore lavori pubblici insieme ai tecnici del progetto, la nuova proposta di area sportiva all'interno del parco urbano nella zona dell'ex campo d'aviazione. Si tratta di un percorso adibito a pump track, ovvero un circuito fatto di salite e discese, curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie o anche sperimentare il solo brivido dell'accelerazione. La struttura, che è stata aggiunta in un secondo momento nel progetto del nuovo parco urbano, sarà dedicata ai possessori di bici, mountain bike, pattini in linea, skate o semplicemente monopattini. Il circuito si ricolloca su un'area di 11.400 metri quadrati, ha una lunghezza di 630 metri, di cui 351 asfaltati e la restante parte è fatta in terreno, quindi è percorribile da mountain bike e biciclette con ruote di un certo diametro. Sulla parte asfaltata potrà essere percorsa anche da monopattini e pattini a rotelle. Speriamo di farla validare dal coni in modo che sia possibile farci gare di diversi tipi, BMX e pump track. Una bella e moderna struttura, aggiunto poi l'assessore Barbara Brunori, che sarà al centro anche di gare nazionali. La pista di pump track verrà realizzata con una pavimentazione drenante, asfalto e terra e sarà recintata. Un impianto di tecnica e socialità, sicuramente una bellissima risposta per i giovani e i giovanissimi che oggi trovano all'interno di queste discipline delle belle risposte di aggregazione, ma anche proprio per mettere a disposizione le loro abilità e superare le loro paure. Perché ricordiamo che questo è uno sport di sali e scendi, ma strettamente legato anche ad una forza fisica e mentale. Un nuovo impianto per la città che diventa un punto di aggregazione, di sport, ma anche un moltiplicatore di quello che è l'aspetto turistico. In quanto questi impianti sono tantissimo ricercati e ad oggi i nostri utenti dovevano essere pronti a spostarsi. Invece oggi siamo pronti a ricevere tanta gente. I lavori partiranno a giorni per essere ultimati nella primavera del 2023 per un investimento complessivo di 250.000 euro. Sarà una delle più belle piste del centro Italia, ha concluso il primo cittadino seri che coinvolgerà tantissimi appassionati di questa disciplina, sempre più in forte aumento. È veramente per tutti, da sportivi, da appassionati, da persone che hanno il piacere di usarla. È un intervento, come dicevo, importante che qualifica la città ma soprattutto che dà un nuovo servizio ma diventerà anche uno spazio e occasione anche per iniziative importanti per tanta gente.